VOLA 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 LA PREMAIA PUTTA eh abbiamo forato PUTTA Oh, oddio, come stavo male, cosa è successo? Voglio uscire da qua, veramente, si apre! Cosa è successo? Scroba, c'ho le mani invisibili! Oh, sono mortali! Adesso esco! Non riesco a uscire! Non ho più le mani, non sono invisibili, non ho più le mani! Mi sento male, la pressione! Ah, che circolo a testa! Che mina! Porca! Se mi sento elastico... Dai, usciamo! Mi siamo chiusi dentro! Però mi sento troppo elastico! Tenterò di aprire! E mi apro! Cosa faccio? Cosa faccio? Chiudo dentro! Mi si è bloccato il braccio! Mi si è bloccato il braccio! Ah! Ma la testa, oh! Mi sento tutto strano! C'è un caldo! Beh, non fa tanto male, però! Aaaaaahhhhhh! 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 Dai, dammene cinque pezzi. Sto scatoffiando un chiederbueno. Devo intervenire. Ragazzi, state mangiando il kinderbueno in maniera errata. L'approccio è labiale e dentale. Dentale. Lappiare! Lappiare! Gianni! Allora? Dove c'hai dato a finire? Gianni! Gianni! Ehi, bel fustocchione, quanto vuoi? Gianni! Dio! Ehi! No! 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 Sono solo un sogno, stabbo! E poi sono anche gonfio! Vado a pisciare! Dio! 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 No! Ehhhhhhh! Dio. No! 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 Ehi! Dio! Modio! no eh oh ma basta oh 좆 diamo vai afora ti hai ridi ma ma non basta non voglia dove andare scentalo con le mani roma aaaaaaah guarda che forza guarda che forza c'è il maccacchio è cacchia, è cacchia ma hai paura che pago qui eh è calda che sta accendo non lo pago ma hai disegno perchè ha risparcato ma io non lo so E' un po' di JV Park E' un po' di JV E' un po' di più ho fatto un pavimento ho fatto un pavimento ho preso troppo che ne so vedi? no 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 che ne so vedi? Italia 1 1 vai Italia 1 Tito ne babate Marco dai non si è visto non si è visto non si è visto Italia 1 1